Una casa in bioedilizia? Antisismica e a consumo energetico ridotto? Con struttura in legno e un design moderno? Costruita con materiali sicuri, tanti optional e domotica di ultima generazione? Ti sembra una follia? No! Con Campa tutto è possibile! Campa, case da sogno per il futuro. Vai su www.campa.it Campa con la K. La tua casa è qui.